Con lo slogan sostieni le attività della tua città ti conviene da sempre parte in Toscana la campagna della regione vicino conviene per sostenere gli esercizi commerciali di vicinato e le botteghe artigiane colpiti duramente dalla crisi economica portata dall'epidemia di coronavirus l'obiettivo della campagna è convincere i cittadini ad acquistare nei negozi del proprio territorio la regione toscana insieme al comitato regionale consumatori e utenti cna conf artigianato conf commercio conf esercenti e anci vuole sostenere i commercianti in questo 2020 difficilissimo in cui istat parla di 100 giorni in media di totale chiusura delle attività emergenza sanitaria ed economica che in attesa di farmaci e vaccini si protrarrà anche nel 2021 adesso siamo tornati finalmente fortunatamente in zona arancione grazie al calo la diminuzione dei contagi e quindi a dati che sono sicuramente più incoraggianti rispetto alle scorse settimane sono però hanno pesato molto sulle spalle dei piccoli esercizi del commercio e dell'artigianato e quindi proprio per questo noi vogliamo sostenerli questa è una campagna un po semplice anche artigianale fatta in casa ma che crediamo abbia un grande significato e quindi siamo contenti oggi di essere qui vicini alle feste natalizie proprio per promuovere il commercio e l'artigianato della nostra bella e ricca toscana molti commercianti e artigiani stanno affrontando questa situazione che ha comportato anche ulteriori spese per l'adeguamento ai protocolli di sicurezza anticontagio cercando di valorizzare l'acquisto nelle proprie attività integrando la vendita tradizionale con servizi aggiuntivi come la consegna a domicilio e la possibilità di ordinare telefonicamente o via web altri cercano uno sbocco nel mercato online attraverso accordi con i grandi player la cosa bella è che questa iniziativa incrocia sia chi rappresenta i consumatori che chi rappresenta il commercio e l'artigianato significare che alla fine c'è un bene comune quello delle attività del patrimonio dell'impresa toscana che deve essere sostenuto in questo momento così difficile un'impresa che dà anche lavoro a migliaia di persone che oggi vivono attraverso la cassa integrazione in momenti di grandissima difficoltà e i titolari non da meno hanno bisogno di essere sostenuti l'iniziativa quindi doveva essere assolutamente presa in carico anche dalla regione l'assessore marras ha spiegato che l'impegno della regione potrebbe essere esteso anche ai prossimi mesi io spero addirittura che nei prossimi mesi possiamo essere addirittura protagonisti di una campagna anche più robusta e non significa sostenere semplicemente il commercio tradizionale non significa guardarsi indietro perché sono tutti operatori che hanno saputo anche cogliere le iniziative di maggiore innovazione possibile stando nella rete avendo la possibilità di gestire i servizi anche di consegna in maniera articolata e diversa e lo si è visto anche con i bandi per la micro innovazione i primi a rispondere sono proprio stati piccoli esercizi commerciali che hanno capito che c'è necessità di cambiare quindi dobbiamo proprio fare fronte e leva su questa energia positiva intellettuale economica che deve essere preservata per descrivere la situazione di difficoltà che vivono i negozi di vicinato nico gronchi di confesercente ha portato alcuni dati istat a ottobre i piccoli negozi hanno segnato una diminuzione delle vendite del 3,2 per cento la media e grande distribuzione ha segnato un più 1,2 per cento mentre le vendite online hanno registrato un più 52 per cento gronchi ha però sottolineato che le vendite online non devono essere viste come un nemico ma come un'opportunità anche se hanno bisogno di regole anna lapini di conf commercio ha parlato del web come un'opportunità da sfruttare far crescere mantenendo però i negozi in presenza e coinvolgendo maggiormente i giovani insomma valorizzare tutte le possibilità offerte e dare la possibilità al mercato tradizionale di esprimere e far conoscere i propri valori che sono anche cultura civiltà e storia di un territorio ci stiamo ovviamente coordinando anche con i comuni con le realtà con le amministrazioni comunali proprio per promuovere questa campagna che si compone di una parte social di divulgazione di sensibilizzazione attraverso i social network che sappiamo essere molto usati ma anche grazie a vetrofanie grazie a etichette chiudi pacco grazie a biglietti d'aguri insomma un messaggio che faremo veicolare ci auguriamo in tutto il territorio della toscana proprio per sensibilizzare per far sì che le cittadine e cittadini facciano acquisti nei territori appunto sostenendo le realtà locali la campagna vicino conviene anche l'obiettivo di sensibilizzare quelle persone che usano il mercato online perché ritenuto di tendenza e che fanno acquisti in rete a prescindere ogni comune centro commerciale naturale o impresa può adattare l'immagine della campagna vicino conviene alle proprie esigenze di marketing il pacchetto base è composto da locandina biglietto di auguri adesivo chiudi pacco vetrofania con indicazione delle modalità di vendita banner pubblicitari standard per instagram facebook e twitter e uno spot pubblicitario tutti questi materiali sono disponibili online e scaricabili gratuitamente sappiamo bene che i nostri artigiani nostri commercianti stanno sicuramente pagando purtroppo un prezzo molto alto dovuto agli effetti di questa pandemia e quindi abbiamo voluto sensibilizzare i cittadini consumatori proprio relativamente all'importanza di poter acquistare i prodotti nel nostro territorio proprio grazie ai rapporti di fiducia che si creano e soprattutto grazie alla qualità dei prodotti che ci sono invidiati in tutto il mondo e questo devo dire è stata un'idea nata appunto dalle associazioni dei consumatori e anche dalle associazioni di categoria che hanno assolutamente subito in maniera entusiasta accolto il nostro invito e quindi come regione toscana insieme all'assessore marras abbiamo voluto coordinare il dare il nostro contributo in questa campagna che speriamo possa essere di aiuto a queste attività per aderire si deve accedere alla piattaforma online www.regione.toscana.it slash vicino conviene da lì è possibile fare la registrazione e scaricare il materiale pubblicitario oltre alla campagna vicino conviene la regione toscana ha messo in campo anche due bandi per finanziamenti a fondo perduto si tratta di 124 milioni di euro destinati alle piccole e medie imprese 115 per investimenti in materiali o immateriali per la ripartenza e gli altri destinati alla digitalizzazione i contributi sono destinati a 2001 piccole e medie imprese toscane e sosterranno investimenti per 261 milioni di euro sono stati bandi che hanno riguardato prima di tutto gli investimenti il nostro ruolo lo ricordo sempre soprattutto legato alla ripartenza quindi agli investimenti 115 milioni che hanno significato per le piccole imprese soprattutto una grande risposta a una voglia di cambiamento di investimento che in un momento difficile come questo si è manifestato e poi all'innovazione la micro innovazione quindi attività di legate alla trasformazione alla transizione digitale che riguardano anche le piccolissime imprese non solo chi magari nella produzione è più abituato all'innovazione tecnologica alla capacità di sviluppare le proprie attività investendo proprio in tecnologia ma riguarda proprio anche i piccolissimi e questo Bando per esempio ha dimostrato una vivacità nel settore produttivo che forse era anche imprevedibile all'inizio io penso che dovremo continuare su questa strada